Ma a cos'è questo caldo oggi ragazzi? Qua bene è già arrivata l'estate. Tim, ma cosa combini? Se anche il vostro gestore telefonico è Tim, come nel mio caso, molto probabilmente vi sarà già arrivato questo SMS in cui lo stesso operatore vi invita con abbastanza urgenza a sostituire, a cambiare il vostro smartphone per presunti problemi di sicurezza. Ovviamente lasciandovi il link per acquistarlo tramite i loro canali e quindi avere un profitto. Ora, che questo SMS sia totalmente inopportuno, beh, penso sia lampante. Specialmente perché è arrivato anche a chi possiede uno smartphone molto recente. Ma pensandoci bene ragazzi, il problema è anche un altro, ovvero come fa Tim a conoscere lo smartphone che stiamo utilizzando? Non sarà mica che magari, butto un'ipotesi, riesce a leggere l'email del nostro smartphone che è legato proprio al modello del nostro telefono e tramite email è in grado di inviare questi SMS? Violando di fatto la nostra privacy? Oppure questi sono, come spero, degli SMS inviati a campione? E aggiungo che Tim, come anche altri operatori che ultimamente in Italia stanno dando un po' di matto tra aumenti unilaterali, eccetera, eccetera, dovrebbe prendere un attimo più con le pinze la questione relativa alla sicurezza perché è molto delicata. Ora, mettiamo che un SMS del genere arrivi ad una persona anziana, magari non informata sulla tecnologia, sugli smartphone, quando regge che c'è un problema relativo alla sicurezza sul proprio smartphone, la prima cosa che fa, secondo me, è andare a cambiare subito lo smartphone, magari sfruttando proprio l'SMS che è arrivato per acquistarne uno nuovo. Cioè, va bene fare profitto, va bene guadagnare, ma non sembra un po' troppo ora. Insomma, ragazzi, questo non è un video di Lamentele, ma è un video che spero possa far aprire gli occhi a chi dovrebbe controllare, come a Gcom, a GCM, per verificare che non ci sia una reale violazione dei diritti dei consumatori, di noi consumatori, della nostra privacy, e di pratiche commerciali etiche, corrette o meno. Quindi, boh, stiamo a vedere. Voi cosa ne pensate di tutto ciò, ragazzi? Fatemelo sapere con un commento, avete già ricevuto questo SMS? Beh, parliamone insieme. E magari condividete questo video ai vostri amici in modo che tutti sappiano questa notizia, lasciate un like per supportarmi, e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Vi aspetto anche nel mio canale Telegram TechBestDales, linkato qui sotto in descrizione ai video, dove negli ultimi giorni sto postando tantissime offerte relative alle ultime promozioni su Amazon. Quindi entrateci subito, vi aspetto. Alla prossima! Ciao belli! Ciao! Ciao!